Per la Corte Costituzionale il Molise non esiste, o meglio, non esistono le esigenze dei pazienti molisani. Ora è ufficiale, in Molise, quando si parla di sanità, vale di più far quadrare conti, piuttosto che il diritto alla salute dei cittadini. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, dichiarando illegittima la legge approvata dal Consiglio regionale sulle linee guida dell'organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza. Una legge che aveva come primo firmatario Iorio e che mirava a garantire il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione in una regione come il Molise, in cui negli ultimi anni la rete ospedaliera è stata letteralmente stravolta con la chiusura o il ridimensionamento di presidi, unità operative e servizi, potenziando di fatto la rete ospedaliera molisana. Il giudizio della consulta avverte sul conflitto legislativo tra governo e regione. Per la consulta, una regione in cui la sanità è commissariata, non può decidere sull'organizzazione della rete ospedaliera. Spetta esclusivamente al commissario ad acta proporre al governo un piano riorganizzativo della rete ospedaliera, non prima di aver sentito le stanze provenienti dal territorio. Peccato però che Tom abbia confezionato il piano operativo, non tenendo conto delle esigenze che più volte sono pervenute dalla società civile e dal mondo politico regionale, inviando da prima a Roma il documento e poi, solo in un secondo momento, chiedendo alle parti sociali di esprimersi al riguardo. Nulla di nuovo sotto il sole, del resto era stato lo stesso Toma, a spiegare come il post avesse prevalentemente un carattere tecnico-amministrativo, che tradotto vuol dire che la priorità rimane quella di far quadrare i conti. Prova ne è la decisione di spedire i molisani con patologie e tempo dipendenti fuori regione, costretti a raggiungere con un elicottero gli ospedali campani, abruzzese e pugliesi. Ma il Molise si sa è la regione che non esiste, come a quanto pare non esiste nemmeno il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. E allora la domanda sorge spontanea, è più importante far quadrare i conti o è più importante l'articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute? A quanto pare per i molisani questo diritto conta meno rispetto agli altri italiani.